...della punta, modulo interessante, spregiudicato quanto basta, dovrebbe regalarci parecchie cose emozioni, o almeno è quello che ci si augura. Gli ahiature, murato dall'intervento del difensore. Pogba, hanno spezzato bene la trama qui. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Kante. Shakiri. C'è un buon anticipo. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Intervento a liberare, ci sarà il tiro dalla bandierina. Belli! L'intervento del portiere sul bel colpo di testa. Baragna metri verso l'area. Buon possesso palla, caccia di spazi. Occhio al cross di Alaba. Occhio alla ripartenza. Ditto! 1-0, primo gol fondamentale. Ora vediamo se reaggira. L'ha messa nell'angolino dove il portiere non poteva certamente arrivare. Un tocco di giustezza, preciso, chirurgico. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Controlla del Piero. Prova a sorprenderlo. Grande parata. Che riflesso. Palla in out. Sarà corner. Grande recupero. Attenzione. Ture. Sventa qui la minaccia. A Spiliqueta. Palla recuperata. Azione interrotta. Baragna metri. Ottimo intervento difensivo. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. C'è l'intervento del difensore che scadisce il pallone in out. C'è il fischio dell'arbitro. Si riparte con un calcio di punizione. Rischia grosso qui l'arbitro che si avvicina. A Spiliqueta. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di pallone. passaggi. Fermano la malavra avversaria. Avanza del Piero. Perdono palla. Azione sembrava interessante. Trova bene la profondità. Riconquista palla con il tackle. Palla larga. Perde palla. A Spiliqueta. Punta l'area. Attenzione al cross. Ditto. Ditto. Non sbaglia. Pallone che si è inzaccato e il portiere non ha potuto nulla. Sbagliqueta. Ha sfruttato la migliaia. Ha sfruttato la migliaia. Grazie a tutti